Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda il 4 giugno 2023. Non brilla nessuno nella prima serata di domenica 4 giugno. Blanca, in replica su Rai 1, vince intrattenendo 2,4 milioni di utenti, 14,5 di share per cento. La festa del Napoli ha avuto 1,9 milioni di persone all'ascolto, 12%, dato buono, ma non da gran successo. La fiction Il Papa Buono su Canale 5, ha raccolto 1,7 milioni di spettatori, 11%, numeri tutt'altro che entusiasmanti. Al posto di Fazio, su Rai 3, ecco Chilimangiaro il viaggio che verrà che ha ottenuto 879.000 telespettatori, 5,2%. Trattasi di cifre lontanissim rispetto a quelle di che tempo che fa. Tutti gli ascolti TV della prima serata di domenica 4 giugno 2023. Rai 1, Blanca ha appassionato 2,396 mila spettatori con il 14,5% di share. Canale 5, la fiction Il Papa Buono è stata vista da 1,677 mila spettatori, 11,2%. Rai 2, Sarò con te la festa del Napoli è stata seguita da 1,922 mila spettatori, 11,9%. Italia 1, Emigratis la resa dei conti, ha appassionato 695 mila spettatori, 4,3%. Rai 3, Chilimangiaro il viaggio che verrà convinto 879 mila persone, 5,2%. Rete 4, Il Miglio Verde è stato seguito da 744 mila spettatori, 5,8%. La 7, D-Day il giorno più lungo ha tirato 463 mila spettatori, 2,6%. TV 8, Giallappa Show è stato visto da 863 mila telespettatori, 5,1%. 9, Little Big Italy, ha raggiunto 256 mila persone, 1,7%. La 7, D-Day il giorno più lungo ha tirato 463 mila persone, 1,7%. La 7, D-Day il giorno più lungo ha tirato 463 mila persone, 1,7%.